Guardate, guardate. Oggi 41 gradi, eh? Oggi 43 gradi, non 41, ricordate. Ha giunto due, perché lui è andato in macchina, l'ha visti, io l'ho sentiti. Di un mio paesano qua. Napoletano? Di Caserta. Un casertano qua, chi vende le albicocche in Marocco? Ima meVeta, no, non c'è prendenda. Mi parla, c'è un cucco, perché abbiamo trovato un cucco di molto erbico. Ahahah, come un 70 euro. Eh? Lì abubo un cucco di cosa hai provato anche a tebracone. D'o di Drogen. C'è un cucco di randicolo, con un bel cucco di randicolo, con il cucco di randicolo. C'è un cucco di randicolo? Il cucco di randicolo. Cucco di randicolo? Lì, cucco di randicolo. Cucco di randicolo a poco. Cucco di randicolo. Sì, è il primo paese. Questa è la prima paese. Questa è il primo paese. È il paese il paese. Sì, è il paese il paese.